Comprare sempre di più energia rinnovabile, investire sempre di più in energia rinnovabile, perché questo non soltanto consentirebbe di completare i processi di decarbonizzazione del settore, ma anche di stabilizzare i costi dell'energia elettrica. La strada indicata da Antonio Gozzi, appena rieletto presidente di Federacciai, è la sfida di queste ore per fronteggiare l'esplosione dei costi di energia elettrica e gas che in prospettiva potrebbe provocare problemi sociali anche gravi. Il tema vero, prosegue Gozzi, è quello delle autorizzazioni. Il ministro Cingolani e il governo Draghi spiegano hanno fatto passi avanti sul tema delle semplificazioni, ma occorre fare di più. I siderurgici hanno fatto un'indagine per capire quanto terreno hanno nei loro compound industriali per installare soprattutto del fotovoltaico e hanno messo a disposizione più di 1000 ettari, che significano quasi 800-900 megawatt di fotovoltaico. Bisogna che queste realizzazioni possano essere fatte con una semplificazione assoluta, cioè nei compound industriali non c'è nessun interesse paesistico o culturale da difendere, quindi non si capisce perché la sovraintendenza possa dire la sua. Qualcosa è stato fatto fino a 20 megawatt e bisogna anche qui fare di più. Quella italiana, prosegue Gozzi, è una elettrosiderurgia. Su 24 milioni di tonnellate di acciaio prodotte in Italia, l'80% è fatto con forno elettrico. È un comparto eccellente e decarbonizzato, spiega segno di un percorso pragmatico che deve proseguire senza ideologismi o estremismi. Il paradosso è che per non far funzionare le centrali a gas, oggi la Germania sta andando a carbone a tutta forza e questo dimostra come in una situazione di grave crisi internazionale bisogna essere razionali, adattivi, pragmatici, il che non significa perdere di vista l'obiettivo che è là e deve essere perseguito, ma attuarlo con realismo e senso delle cose pratiche.